Quella di andare a Manchester, tutte queste belle emozioni a livello calcistico, poi anche purtroppo le situazioni riguardo l'infortunio, quindi diciamo è stato bello rivivere questo passato e poi ecco di metterlo qui nel libro, alcuni momenti forse proprio quello dell'infortunio è stata magari la parte più difficile perché ovviamente cerchi sempre di dimenticare, però nel libro lo leggerete come ho fatto insieme alla squadra, insieme alla mia famiglia, come abbiamo fatto tutti a superare questi momenti, è veramente forse la parte diciamo più forte del libro che forse vi piacerà.